Vergogna! Siamo costretti a intervenire in questo modo per non veder soffocato il diritto fondamentale ad avere una legge uguale per tutti. Questa è una critica a chi sta al governo. Voglio citare a memoria la dichiarazione di ieri sera del ministro Maroni. Due giorni fa mi ha detto che nessun decreto di favore. Siamo di fronte a una pagina nera della storia democratica di questo paese. Il governo nella notte ha scelto la via del decreto d'urgenza per rendere legittimo quello che è illegittimo. C'è la possibilità per il PDL a Roma e per Formigoni in Lombardia di presentare le liste. È un fatto gravissimo che dimostra per l'ennesima volta che questo governo a livello nazionale e a livello locale utilizza le leggi e la possibilità di legiferare per risolvere i loro problemi. È la dimostrazione che le liste erano irregolari. Un attentato gravissimo alla democrazia fatto da persone che quando sono stati nominati membri del governo hanno letto questo giuramento, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi ed esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Hanno tradito questo giuramento. Hanno agito unicamente nell'interesse dei loro partiti, delle loro parti e dei loro interessi privati. Ed è stata estremamente grave anche la decisione di Napolitano di controfirmare immediatamente il decreto. Doveva essere il garante della democrazia, è stato invece il garante di interessi di parte. Legge truffa! Legge truffa! Legge truffa! Legge truffa! Con questo decreto, questo governo ha deciso che nel nostro paese non esistono più le regole. Hanno trascinato le regole nel fango con la questione morale infinita, con la gestione della protezione civile, con le corruzioni a Palazzo Marino, con gli assessori regionali in galera e quelli che ci devono ancora andare. Sono rimaste soltanto le regole che governano il processo elettorale, che sono il cemento che tiene insieme la convivenza del nostro paese. Ora hanno deciso che anche quelle regole valgano solo per gli altri, ma per loro non valgono. La legge dice che nessun presidente può fare più di due mandati. Formigoni ne ha fatti tre e vuole fare il quarto e non ha nemmeno avuto la decenza rispetto ai cittadini e rispetto anche ai suoi elettori di raccogliere le firme in maniera come provvede la legge, come abbiamo fatto noi e come avevano fatto gli altri. Formigoni è un bugiardo perché ieri sera ha detto che hanno controllato le nostre firme e che non sono regolari. Formigoni è un bugiardo, le sue non sono regolari. E adesso il suo amico che sta a Roma e che comanda, che si chiama Berlusconi, gli ha fatto la legge doc per salvarlo. Questo è uno schifo, bisogna iniziare un ribellione civile. Basta stare in silenzio e concentrare di fare i loro porci affari. Basta! 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 Basta!